Ciao a tutti e a tutte, bentornati a un nuovo vlog. Allora, ieri era il 31, vabbè, ieri, perché se lo stesse chiedendo non ho registrato perché, vi informo, mi carichi, ho trovato un server che mi piace di più, si chiama Regno di Zeal. Ed è assolutamente nuovo, rinnovato al zero, ed è bellissimo, puoi scegliere tra quattro classi. Se volete cercarla andate su Minecraft Italia, eccola, 1.20.1, che appunto io stavo cercando un tipo di mod da giocare. E pensate bene che la cara zia Federica, praticamente ha pensato bene di crearsi una mod dove puoi usare anche gli zaini. Sì, perché esistono anche gli zaini, come esistevano anni fa su, non vi dico, delle serie ma proprio vecchie, vecchie di Minecraft, che si potevano usare, eh. Vabbè, è successo che, se avete visto l'altro video che ho pubblicato riguardo i momenti passati di Lion, mi scuso se sono stata offensiva per chi magari segue Lion ancora, però mi è sembrato un po' cattivo come si esprimesse con i suoi amici. È vero che è tutto fatto soltanto lì per fare scene e roba del genere, ma a me sembra un po', scusate, esagerato, dover urlare a una persona che non ha neanche fatto niente, visto considerato come me che ho una situazione familiare un po' caotica, che io vorrei risultato un po' di calma, di... vabbè, avete capito. Cioè, per me è risultato un po' negativo il... cioè, come tratta male i suoi... tratta i suoi amici male, di come diverse serie le ha cancellate perché non gli piacevano. E, francamente, non ce l'ho con lui, per carità, eh. Però, dico, è tutto per far soldi e io penso che i soldi non siano la... non siano la giustificazione di poter trattare i tuoi amici che ti vogliono bene, di merda, scusate il termine, però è così. Vabbè, è nulla, e... vabbè, se volete vedere i video passati di Lion, guardateli, io guardo solo quelli perché lì era ancora calmo, perché io guardo solo video vecchi, come per esempio anche quelli dei me contro te, quando non ho nulla da fare. E, vabbè, è successo che ieri ho giocato per tutto il giorno a questo server che ho scelto la classe di guerriero. Se volete scegliere, ve la consiglio, perché è molto bella. E, vabbè, quello che ho fatto nel pomeriggio è che ho giocato. Basta, oltre a quello nulla. E scusate ancora per l'attenziamento che ho avuto nei confronti di Lion, però io mi sono veramente stancata del comportamento che ha nei confronti dei suoi amici. Che lo continua a fare, anche se l'ho smesso di seguire. Vabbè, non parliamo d'altro. Allora, io adesso, dopo il video, anche perché sono tre minuti che parlo. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Scusate se mi sono sfogata, ma mi sono veramente stufata di questo attenziamento. Vabbè, nulla. Io adesso vi mando a maciare. E noi ci vediamo domani con il simoblog. Scusate ancora per il termine che ho usato. Ciao!